bella ragazzi bentornati sempre qui su b2square gaming come al solito qui è il vostro fra e cerco di allontanarmi dal microfono perché sennò faccio un brutto audio comunque qui è il vostro fra e siamo su rise naturalmente sono solo io come sempre come vi ho detto non so siccome non ho registrato un paio non so cosa avete risposto a una puntata precedente ma la questione di trade off nel senso che non riesco a vedermi sempre con joe sono oberato di lavoro e quindi per darvi più video li giro anche da solo adesso dopo questo tenterò di girarli con joe però vi assicuro che insomma è assai difficile va bene allora come sempre disclaimer lo so che mi direte o basta fra e cioè c'è l'ottore balle però come sempre mega di giga disclaimer non sono bravo nell'action uh space space crepa crepa e beccati questo ma con me ma con chi sto parlando cioè sono da solo marius sembra quello veramente di maccio capatonda marius non te l'aspettavo eh romano schiacciato dalla tua stessa ma questo l'ho sentito pure io no beccati questo obeso però è è carino perché praticamente ogni volta che gli tirate tipo le le spadate guardate cioè praticamente cioè si vedono ma chi lo sapeva che qua dietro c'era la oh ma ma non stavi attaccando l'altro romano tu ma praticamente io adesso cosa sono una specie di sergente dei legionari perché cioè avevo il cappello pettinè oh ma gli altri romani cosa cavolo fanno e veramente io sto giocando a sto giocando a livello semplice no gli altri guardano no è un piacere è un piacere ok ah cercate i superstiti qui ci penso io oh dai oh porca la misera ma perché riesci sempre a bloccare ragazzi è più forte di me oh crepa oh piano piano mi sto mi sto adeguando al sistema di gioco ci metto sono un po' tardo ma prima o poi arriverò oh ascoltate la flotta è distrutta il nemico controlla la spiaggia l'acqua accoglie i nostri caduti ritiriamoci morto morto dove essere morto dobbiamo ripiegare abbiamo un punto di raduno ci siamo non lo so dicemi che erano buoni erano buoni finché non so il segnale in poche parole ma anch'io perché faccio così ok cerchiamo di oh oh bene questo l'ho preso e adesso pensiamo oh prendiamolo un altro e adesso e questo oh oh come vedete finalmente forza soldati dai dai forza carica si 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 oh dai 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 che piano piano ci siamo quanto siamo audaci avanti uomini siamo quasi alla torre alla torre punto di controllo bene ci siamo arrivati piano piano ah per bloccare le frecce avvicinarsi dai 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 piano piano questo è bello cazzo la falange flitica vieni scudi un piano dai oh oh finalmente cacchio finalmente soltanto che non ho energia quindi suppongo già come andrà a finire posso già fare una previsione punto di controllo però al massimo se muoio muoio da qua uomini alzate il contrapeso io sarò da sbloccare il catenaccio dai dai sblocchiamo il catenaccio oh dai cadi di sotto cosa devo fare per farti cadere di sotto lasciate il meccanismo dai 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 in verità pochissima salute da marius si si arrivo arrivo e con calma dio mio c'è tutta sta fretta ma questo ma questi da dove arrivano dammi energia dammi energia dammi energia oddio oddio c'ho l'obeso dai 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 devo cercare di di fare così nooo non si può morire così dio mio e dove ero arrivato dove ero arrivato tra l'altro quella sembra una bandiera americana si vede che ha fatto dai cioè manca le sue vestelline poi vabbè vabbè ragazzi dovete portare pazienza adesso ce la farò mi raccomando dai 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 alzate il contrapeso alzate tutti il contrapeso alzatelo porca la misera volevo volevo prendere la super combo ho finito porcaccia la misera dai andiamo a prenderne degli altri perché queste qui possono sempre risultare utili vai col meccanismo distruggiamo il meccanismo oh ma perché non me lo fa oh ok pigiavo continuavo a fare l'alivata di scudi oh porca la misera insomma non riesco a tirarlo veloce la ecco porca la misera mi sono incastrato che disdetta ma perché fa così oh beccati questo maledetto oh riuscirò a ucciderti a ciccione beccati anche questo tu pure te oh dio mio che combo una linea resiste ma ne arrivano altri oh ma vai 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 porcaccia la misera ma perché dai vai lì prendimi ste cavolo ooooh ooooh così mi piace beccati questa oh beccati muore maledetto muore via 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 ecco lo sapevo io porca la misera non riesco non riesco No ragazzi morire così Morire così È indecoroso Porca la misera Porca la misera Muori Prendine altre Ma che cavolo devo fare adesso Figurati se i barbari arrivavano a costruire una roba del genere Vabbè comunque c'è da aspettarsi È un gioco sviluppato dagli americani Figurati È già tanto che se non vedo L'uso di archibugi Ma quanto sono figo Comunque qua i romani fanno veramente una bece da figura Cioè questi popoli qua barbari Praticamente i romani li hanno fatto dei culi a Lucina L'impavido assaggia la morte Una volta I codardi Al tremide Ora abbiamo versato Il sangue dei barbari E sangue Proprio come noi Forza Che leader Muoversi Questa è proprio Mi sala Il video delle tre Così Ve lo butto Sì ve lo butto lì Figurati Tipo sbarco in Normandia Sì sì È il video delle tre Perfetto Va bene ragazzi Allora come Come al solito Non mi resta che Darvi appuntamento alla prossima E mi migliorerò Spero che ci sia anche Joe Al prossimo video Che è quello delle tre Quindi non mi resta che Ricordarvi di Droppare un like su facebook Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto Marrani E alla prossima Ciao belli